Il maestro suona Maestro suona, non l'avevo visto San R.E. Kasher È partita Mamma mia, che impressione È veloci Sì, sì, ma Con balco finale Con balco finale Non anticipo nulla Non anticipo Allora, attenzione È pronta la seconda Il maestro Il maestro Il maestro È fin Pronto. San R.E. Kasher. È andata. Ha un bel passo anche lei, ha un bel passo anche lei, forse è un po' più veloce di quella di prima, è spettacolafri. Bravo, bravo, bravo. Bravo, maestro, bravo. E da qui ha il legato 14,25 secondi ed è un Guinness World Record. Va come è contenta, va come è contenta. Che bel tusin, che bel tusin. Grazie году. Grazie a tutti.